Benvenuti a Buongiorno Verona, siamo in diretta come ogni giorno dalle 12 e 15 per parlare del nostro tema del giorno. Oggi parliamo di scuola, di ciò che è stata l'istruzione per molti ragazzi in questi ultimi mesi e di ciò che sarà in futuro. Quest'ultimo anno infatti segnato dalla pandemia di Covid-19 ha costretto il mondo scolastico a riorganizzarsi in nuovi modi con la cosiddetta didattica a distanza, che di certo abbiamo visto non sempre è stata molto funzionale. Dal 26 aprile, con l'ultimo decreto varato dal Governo, si va verso la riapertura. Per le regioni in fascia gialla, come sarà il Veneto, la didattica in presenza potrà riprendere da un minimo del 70% fino al 100% e forse si riuscirà a tornare gradualmente, molto gradualmente, alla normalità. Ma sono ancora tante le questioni da definire. E allora per parlare di questo ma di tanto altro siamo in collegamento con la dottoressa Maria Luisa Iannuzzo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Giorgia e grazie dell'invito. Allora dottoressa, lei è coautrice di uno studio che ha approfondito il ruolo delle scuole nella seconda ondata di Covid e quindi le chiedo subito perché la scuola in questa emergenza sanitaria sembra sia stata trattata un po' come la cenerentola delle priorità, delle varie priorità. Insomma, che ruolo ha avuto effettivamente l'istruzione in questi mesi? Allora Giorgia, il perché è difficile spiegarglielo, nel senso che se lei mi chiede una disamina dal punto di vista scientifico, anche per me è una domanda il perché sia stata trattata da cenerentola. Con questo studio pubblicato su Lancet Regional Health noi siamo andati ad analizzare i dati provenienti da 7 milioni di studenti delle scuole italiane e da 700 mila adulti provenienti dalle scuole, quindi personale docente e non docente. Questi dati ci hanno dato delle evidenze importanti, direi che sono tre le evidenze più importanti. La prima è che all'interno delle scuole il tasso dei positivi sui tamponi effettuati è sempre stato intorno all'1%, mentre nella popolazione generale è sempre stato durante la seconda ondata del 5-7%, quindi notevolmente più alto in popolazione generale che non in ambito scolastico. Il secondo dato importantissimo è che i contagiati all'interno della scuola sono sempre stati meno rispetto ai contagiati della popolazione generale. Tra i ragazzi bambini delle materne e delle elementari e delle medie i contagiati sono stati del 39% inferiori alla popolazione generale, per le scuole superiori inferiori del 9% rispetto alla popolazione generale, mentre è sovrapponibile il tasso di positività di contagio degli insegnanti. Il terzo grande elemento che non fa pensare che la scuola sia un ambiente rischioso è che la salita della curva dei contagi nella seconda ondata si è realizzata indipendentemente dall'apertura chiusura delle scuole. Questo l'abbiamo dedotto, l'abbiamo dimostrato, paragonando due grosse città come Roma e Napoli. A Napoli la curva della seconda ondata è salita più rapidamente e prima rispetto a Roma e vi ricordo, lo sappiamo tutti, che a Napoli le scuole sono praticamente sempre state chiuse. Quindi quello che abbiamo dimostrato cos'è stato? Chiaramente la scuola non potremmo mai dire che è un luogo a rischio zero, però a scuola abbiamo visto che c'è una strenua rispetto di tutti quei metodi di distanziamento, di protezione con i dispositivi, di disinfezione delle mani che fanno sì che la scuola comunque sia considerato, debba essere considerato un posto sicuro nei confronti della pandemia Covid. Certo, ecco ma allora al netto di questi dati che sono assolutamente molto interessanti, mi stona appunto con tutto quello che è successo, perché per esempio in Veneto all'inizio si parlava di focolai nelle scuole, poi si è fatto un passo indietro e si è detto no, non è vero, le scuole sono un luogo più sicuro, uno dei luoghi più sicuri per i ragazzi e poi si è tornato invece sulla strada del focolaio. Insomma c'è stata veramente tantissima confusione, come mai? Io penso fondamentalmente perché non è stata fatta una accurata analisi dei dati, nel senso che nelle scuole sicuramente ci sono state dei focolai, però in riferimento proprio a questo argomento, ieri il governatore ha presentato dei dati in cui si parla da gennaio a oggi di più di 4.000 casi all'interno delle scuole e complessivamente 6.000 casi, cioè praticamente il discorso è questo, nelle scuole ci sono stati più di 4.000 casi indice, complessivamente ci sono stati 6.000 casi, quindi si deduce che chi ha contratto il virus dal proprio compagno di classe o dal proprio insegnante è chiaramente un numero particolarmente esiguo rispetto ai casi indice. Inoltre Regione Veneto ha un ottimo protocollo di tracciamento all'interno delle scuole che ci permette appunto di andare a valutare quali sono i focolai scolastici e invece quali sono i casi positivi che all'interno della scuola sono però legati a un focolaio familiare e le devo dire la verità, focolai scolastici sono decisamente inferiori rispetto ai focolai familiari, il problema è che chiaramente questi dati non devono essere forniti come numeri secchi, numeri assoluti, ma ci va una disamina di questo tipo molto precisa per poter fare delle definizioni appropriate. Chiaro, chiarissimo. Ecco quindi con questo ritorno da lunedì al 70, un minimo del 70% fino a un massimo del 100% poi questa percentuale sarà valutata credo in questi in questi ultimi giorni prima della ripresa, crede che quindi non si andrà a come dire mettere in difficoltà ecco i ragazzi, cioè pensa che comunque i contagi resteranno come sono, insomma non ci saranno dei focolai? Io più che pensarlo me lo auguro, abbiamo tutti gli strumenti per far sì che questo non si verifichi, comunque abbiamo i ragazzi che le devo dire da esperienza personale avendo visto molte situazioni scolastiche all'interno della scuola si comportano benissimo, ricordiamoci che i bambini e i ragazzi sono meno contagiosi rispetto alla popolazione adulta e poi abbiamo in Veneto un efficace protocollo di tracciamento che ci potrà permettere di evidenziare rapidamente i casi positivi in modo da prendere i provvedimenti proprio per evitare che eventuali focolai sorgano dal caso indice scolastico. Esatto e quindi anche noi ci auguriamo ovviamente che questo rientro a scuola sia il più sereno per tutti quanti, i docenti, i studenti, insomma tutti che si possa veramente finalmente tornare a una normalità graduale ma comunque normalità, insomma. Certo. Dottoressa noi la ringraziamo per averci portato questi dati molto molto importanti e molto interessanti, lo studio eventualmente dove lo possiamo trovare? Allora lo studio lo potete trovare ad accesso libero sull'Anset Regional Health e poi nelle pagine Facebook sia mia che della professoressa Gandini che è la prima firmataria di questo studio. Benissimo così se qualcuno appunto dei nostri spettatori volesse informarsi di più, volesse avere i dati precisi e tutti i dati insomma almeno sa dove andare a trovarli. Dottoressa noi la ringraziamo per essere stata con noi, grazie e buona giornata. Grazie a voi Giorgia, buona giornata. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento allora tra poco alle 12.30 con il nostro Tg e quindi le principali notizie della mattinata. Grazie per averci seguito e a tra poco.